Ho predisposto due tipi diologie di consulenze, sempre sul sito web c'è il pulsante dedicato, quella in videochiamata che ovviamente è un costo inferiore rispetto a quella in presenza, c'è il costo scritto, dura un'ora, un'ora e mezza, si può parlare di tutto, comunque c'è anche un campo in cui si può scrivere quella che è la richiesta, in modo tale che io possa già prepararmi senza farti sprecare ulteriore tempo e andare a risolvere o a proporti delle soluzioni per quello che è il problema che la tua impresa sta affrontando in quel momento. Cosa è una consulenza? Alla fine è un accesso a tutta l'esperienza del consulente, in questo caso del manager, dell'imprenditore turistico che ha già superato determinate fasi di una struttura turistica e in base a quelle che sono anche le sue collaborazioni, i suoi contatti, riuscire a superare un momento di criticità. Possiamo andare a vedere insieme il conto economico della struttura e magari se è un po' sbilanciato, vediamo sia quella che è una gestione finanziaria che in percentuale i vari reparti, se sono più o meno ordinati. Possiamo fare una consulenza sulla gestione del personale, sulla formazione del personale, la promozione, il marketing, le vendite, il servizio clienti, la gestione operativa di una struttura. Tutto questo si può vedere come? Il prezzo è in chiaro, c'è un pulsante nella pagina dedicata del mio sito web e parliamo, scrivimi, vediamo se riusciamo a risolvere e a far ripartire la tua struttura.